Cosa succederebbe se vi dicessi che in Italia, vicino a Milano, anzi vicino a Torino, ho fatto il bagno con i pinguini e poi anche con gli ippopotami? No, non vi sto raccontando una bugia, è successo davvero. Qui vi mostrerò una scena del mio bagno con i pinguini a pochi millimetri da loro. Guardateli, sono carinissimi.